il figlio e lo spirito santo. Finiti i lavori di ristrutturazione oggi hanno riaperto le poste di via Gabrielli. La succursale 2 diretta da Francesco Panaroni si presenta alla sua numerosa clientela con un moderno open space ed una veste completamente rinnovata. Seguendo le più recenti e moderni canoni ergonomici e funzionali degli uffici di ultima generazione di poste italiane dopo quattro mesi di lavori è tornata in piena attività questa succursale tra le più frequentate di Fano. Un appuntamento al quale non ha potuto mancare il direttore provinciale di poste italiane che con grande soddisfazione ha presentato i nuovi spazi e servizi a disposizione della clientela. Abbiamo ritenuto indispensabile fare una completa ristrutturazione dell'ufficio che come vedete offre uno spazio confortevole e gradevole per far sì che i nostri clienti possano avere non solo un servizio di qualità ma possano vivere in un ambiente più sereno più tranquillo e venire più spesso in questo ufficio. Questo ufficio è stato dotato di una saletta consulenza dove i nostri clienti potranno approfondire le loro esigenze di investimento di finanziamento e tutto quello che riguarda il mondo diciamo del patrimonio che viene gestito dai nostri clienti. Niente vetri blindati e pesanti strutture ma più luce e comfort per migliorare l'abitat lavorativo e quindi anche i rapporti e l'efficienza del servizio ma non a discapito della sicurezza. I moderni uffici infatti hanno un elevato standard in questa materia. Il nostro impegno come rappresentanti delle istituzioni deve essere quello di continuare ad insistere affinché l'azienda continui ad investire su questo territorio. Sicuramente c'è bisogno di fare altri investimenti facciamo in modo che il nostro lavoro serva per migliorare non solo la qualità dei servizi ma anche la qualità degli ambienti dove vengono i cittadini a prendere i servizi stessi.